cosa dire quello visto a bergamo e che ha perso contro l'atalanta 3 a 2 e il solito milan gioco brutto confusionario sbagli in impostazione squadra che non entra in campo e non dà l'idea di vincere le partite di poterle vincere perché sinceramente si vede ben poco le si le vittorie contro fiorentina e fresinone erano arrivate a san siro nelle ultime due partite ma con la fiorentina senza un super magnan non si vinceva col fresinone l'abbiamo sbloccata poi è arrivato al 2 a 0 e resta tutto in scioltezza però stasera è ritornato il milan delle partite contro la juventus contro l'udinese dei secondi tempi di napoli di lecce dove si è fatto rimontare due volte avendo chiuso sia a napoli che a lecce al primo tempo in vantaggio per due a zero e alla fine non si è portata a casa i tre punti in entrambe le partite anzi col napoli senza magnana alla fine la perdevi con lecce invece senza il varo perché il lecce aveva siglato il 3 a 2 avevi perso anche quella purtroppo non sono bastati i due gol di jovic e di girou che aveva rimontato la doppietta di lockman perché nel finale una magia di muriel a tempo scaduto ha regalato i tre punti possiamo dire anche meritatamente all'atalanta prima del gol di jovic magnan anche oggi ha salvato il milan perché su quella doppia parata scalvini e lockman in pratica ha tenuto a galla il milan e poi anche luca ma già graziato perché sulla respinta del portiere francese ha tirato fuori la palla e quindi l'atalanta era su 3 a 1 altrimenti la partita sarebbe finita molto prima il milan deve cambiare rotta mercoledì c'è questa partita a newcastle in champions league dove serve assolutamente vincere almeno per restare in europa quindi nella coppa minore quindi andare in europa league e poi ovviamente sperando in miracoli da dortmund se il psg perde e il milan vince arriviamo seconda e quindi continuiamo il cammino europeo in champions league però giocando così non si va da nessuna parte l'espulsione di calabria nel finale ha peggiorato ancora di più la situazione difensiva perché sappiamo benissimo che i difensori centrali non ce ne sono più abbiamo solo tomori di ruolo probabilmente rientra chiere ma bisogna vedere in che condizioni rientra visto che viene da un'infortuna di un mese un mese e mezzo quindi stiamo adattando già teo ornandez centralmente al fianco di tomori con florenzi a sinistra con l'espulsione di calabria e non recupero di nessun difensore molto probabilmente domenica col monza in campionato florenzi si sposterà a destra con teo ornandez che resterà centrale con tomori a sinistra giocherà il giovane bartesa e anche perché soluzioni non ce ne sono più quindi l'espulsione di capitano calabria ha peggiorato ulteriormente la situazione difensiva si spera nel recupero di leao per la partita di champions altrimenti al massimo per il campionato col monza anche perché sinceramente bisogna riportare pulisic a sinistra perché con ciocque in questo momento la differenza si vede in attacco il milan fatica a proporre gioco ora il risultato è questo la vetta dalla classifica è lontanissima anche perché siamo a meno 7 dalla juve con l'inter che non ha ancora giocato quindi se l'inter dovesse vincere con udinese il milan si ritroverebbe a meno 9 dal primo posto quindi la classifica comincia a essere molto difficile e forse a questo punto è molto meglio guardare alla quinta in classifica quindi mantenere le prime quattro posizioni che pensare alle prime due che stanno volando e basta per il resto ora pensiamo alla partita con il newcastle e salvo miracoli sperando nel borussia dortmund e sperando che il milan faccia il milan in inghilterra e quindi torni a vincere una partita giocando un calcio decente altrimenti meritatamente saremo fuori dall'europa e quindi ci concentreremo sul campionato e sperando di andare in champions league per il prossimo anno